il leader della lega la giustizia va riformata se un giudice sbaglia condolo è giusto che paghi come qualsiasi altro cittadino farò di tutto perché non sia un presidente di sinistra matteo salvini mette le lancette in avanti e al maurizio costanzo show infatti fa sapere che il prossimo inquilino del quirinale non dovrà essere di sinistra l'elezione del presidente della repubblica dice il leader della lega sono lontane nel 2022 farò il possibile affinché non sia un presidente della repubblica di sinistra poi assicura che non staccherà la spina al governo siamo appena partiti siamo all'inizio di un percorso appena gli italiani avranno salute e lavoro torneremo a dividerci e aggiunge che quando si è trattato di scegliere tra il partito i sondaggi e gli italiani lui ha scelto gli italiani dunque il tema della giustizia e il processo rilancia che non vorrebbe finire nella mani di una giustizia che lancia i dadi ma soprattutto che la riforma della giustizia deve partire da quella amministrativa e civile e sentenzia anche un giudice se sbaglia condolo oppure ritarda deve pagare come ogni altro cittadino